La corsa per la poltrona di sindaco a Giulia Nova si arricchisce di un nuovo nome. Stiamo parlando di Daniele Di Massimo Antonio. Nel pomeriggio ieri è stata confermata ufficialmente la sua candidatura sostenuta da Unione Popolare, Nosnoi e Sinistra Italiana. Queste forze politiche hanno espresso il loro appoggio attraverso una nota congiunta evidenziando l'esistenza di una proposta elettorale autonoma e progressista. Con il sostegno, occorre ribadirlo, sia pur indiretto ma preziosissimo, del Partito Socialista. Nasce da un paio di settimane, ma in realtà dal momento in cui abbiamo visto venire meno la volontà di portare avanti un progetto unitario che fosse realmente democratico ed inclusivo, un po' sulla scorta del modello d'amico. E quindi questo è stato un peccato perché effettivamente l'esperienza di patto per l'Abruzzo poteva darci delle indicazioni chiare in tal senso. Abbiamo appunto, hanno alcune forze politiche pensato che non fosse importante mettere in piedi un tavolo di confronto per la scelta di un candidato sindaco, un cosiddetto federatore che potesse unirci tutti e dunque è venuto meno, come detto, quel concetto democratico e abbiamo visto prevalere dei tratti di autoritarismo che non ci aspettavamo. Detto ciò, siamo qui adesso per dare un'alternativa appunto a quei cittadini che non si riconoscono nelle proposte messe in campo, proprio per evitare il non voto, che era diciamo lo spettro che avevamo visto, proprio perché l'astenzionismo è la cosa più lontana dalla democrazia. Di Massimo Antonio, descritto come un giovane colto e libero, si propone come portavoce dei valori progressisti con un programma che pone al centro la riduzione delle disuguaglianze sociali. Dicevamo il sociale perché a Giulianova viviamo una città con diverse velocità e abbiamo quartieri come il Centro Storico qui vicino e il quartiere Annunziata che vivono in un profondo disagio e degrado urbano, con delle periferie esistenziali sotto gli occhi di tutti. Quindi diciamo il lavoro da fare è molto e noi ci siamo naturalmente sperando di trovare un clima di concordia anche con le altre forze che fanno parte dell'albeo progressista.